Tuina! Non fare niente. Che stai dicendo? Sta indietro, non morirà. Cosa? Non si muore di epilessia. Una crisi così lunga può causarle danni al cervello. Sapete quanto ci può costare? Se usiamo il poco tempo che ci rimane, il gioco finirà. Tu non sei un essere umano. Non tocca! Mica, stop! Mica, stop! Mica, stop! Mica, stop! Mica, stop! Grazie a tutti.